Buonasera a tutti e ben ritrovati con il meteo di Antenna 2. In questi giorni molte nubi si sono addensate sulle nostre montagne, quindi abbiamo avuto un tempo tipicamente instabile, tipico della primavera e così continuerà anche nei prossimi giorni. Infatti, come evidenzia la nostra grafica, abbiamo evidenziato questi nuvoloni che molte volte arrecano temporali soprattutto nel pomeriggio, quindi avremo un tempo molto instabile caratterizzato da frequenti rovesci e qualche temporale fino a martedì. Addirittura in questi giorni le temperature si sono abbassate decisamente anche di 10 gradi, tanto che la neve è ritornata sulle nostre montagne oltre i 1800-2000 metri, come evidenziano la webcam di Cimapora e quella di Foppolo. Come sarà invece appunto l'evoluzione per i prossimi giorni? Come evidenzia l'immagine da satellite di oggi, abbiamo diverse zone di bassa pressione che interessano l'Europa, una posizionata sulla Francia, una sull'Europa centrale e una sul basso Adriatico. Queste basse pressioni ci influenzeranno anche nei prossimi giorni tendendo appunto a accentuare questa instabilità soprattutto in prossimità dei nostri rilievi aerobici dove si manifesteranno diffusi rovesci anche a carattere temporalesco. Se passiamo all'evoluzione per la giornata di domani osserveremo una mattinata in prevalenza nuvolosa soprattutto in montagna e mentre sarà possibile qualche schiarita sulla zona del medio-bassa valle Seriana, lago di Iseo. Ecco che però nel pomeriggio aumenterà questa instabilità termoconvettiva che determinerà appunto un aumento della nuvolosità soprattutto in prossimità dei rilievi aerobici che potrà dare origine appunto a locali rovesci che occasionalmente potranno assumere anche carattere temporalesco. Questi rovesci poi che si diffonderanno a tutta la valle Seriana anche al lago di Iseo nel pomeriggio apportando quindi rovesci e temporali. La settimana invece sarà caratterizzata da forte instabilità soprattutto nella prima parte della settimana infatti abbiamo evidenziato nella giornata di lunedì molti addensamenti e qualche rovescio soprattutto in montagna. Le temperature si manterranno piuttosto basse per il periodo e comprese fra temperature minime di 8 e massime che non supereranno gli 11-12 gradi. Martedì sarà una giornata piuttosto buona al mattino con qualche schiarita ma ecco che nel pomeriggio si ripresenteranno le nuvole e qualche acquazzone, qualche scroscio di pioggia sarà possibile. Addirittura prevediamo qualche spruzzata di neve ancora oltre 2200-2300 metri di altitudine. Mercoledì fortunatamente ci sarà una temporanea attenuazione di questa nuvolosità, avremo quindi poche nubie, una giornata piuttosto buona con bel tempo soprattutto al mattino, qualche nuvolone al pomeriggio ma che non determinerà alcuna pioggia e le temperature saranno in ripresa con massime che toccheranno anche i 15-16 gradi. Ma attenzione perché già da giovedì ritorneranno i rovesci soprattutto i rovesci pomeridiani come evidenzia la grafica sia nella giornata di giovedì sia nella giornata di venerdì. Di nuovo le temperature tenderanno a calare soprattutto nei valori massimi e saranno comprese fra i 13 e i 14 gradi, minime intorno agli 8-9 gradi. Il prossimo weekend sembra che ritorni una bassa pressione nella zona mediterranea che potrebbe di nuovo arrecare precipitazioni anche piuttosto copiose fra sabato e domenica anche in Valle Seriana, però per gli ulteriori sviluppi per il prossimo fine settimana vi aspetto qui su Antenna 2 con il meteo.